Benvenuti ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui oggi in Call of Duty Black Ops 3 e nello specifico in deathmatch a squadre in modalità però veterano Mi ancora visto passare uno Muori Eh questo mi ha visto prima No 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 Però ora muori Intanto riesco a riprendermi, muori anche tu malamente E muori anche tu, ok Muori anche tu, guardate quanto cazzo campano Menti i camper non possono mai mancare Fanno parte della storia di Call of Duty, quindi ci devono essere per forza Abbiamo il tempo disponibile, ma ho pochissima vita, ecco infatti sono stato ucciso Muori va Doppia, ho fatto la doppia Era ogni bui bastardi Quindi morirò malamente perché sto in campo aperto Ecco la connessione che ho Muori va Da quello No, l'avevo visto, è stato più veloce, quest'olta è stato più veloce lì Questa è stato più veloce lì Questa sta saltando No ragazzi c'è, non è poi, ma non è possibile Lo spara, c'è lo sparato, era un centino, l'ho colpito niente, non è morto nulla Guardate quello, guardate Sì ragazzi, seconda volta L'ho mirato, l'ho colpito, non è morto Siamo in veterano Quindi dovrebbe morire con uno massimo due colpi, invece niente Sì guardate, terza volta Ah, c'è una specie di robot, forse per quello, non me ne ero accorto Muori va, fanculo Muori va Sì, merda Guardate quello, eh, muori Ok, sei morto Anche tu però, insieme a me Quindi ci siamo Uccissi a vicenda Anzi qui c'è sicuro, eccolo qua Immaginavo Qua muori anche tu Poi un altro ragazzi Ok, allora la prima partita si è confusa con una sconfitta Ovviamente la parte nostra Questa è la visoria della morte finale Ok ragazzi, allora ci vediamo fra poco con la seconda partita Ok ragazzi, eccoci qui giunti alla seconda partita Siamo sempre sulla mappa Combin ed è sempre un deathmatch veterano Deathmatch a squadra ovviamente veterano Non conviene correre all'impazzata per evitare 10.000 morti Ecco qua, infatti, appena detto, ecco qua la prima morte Andiamo un po' Da qui si viene qualcuno Sì, guardatelo lì Muori va Vediamocene subito lì da qui Chi c'è? Eh, guardatela Cioè già stavano pronti ad aspettare lì Cioè Ormai hanno le tappe fisse quelli in questa mappa Ovviamente Qualcuno mi sta risseguendo Tu muori Ma ovviamente non posso fare ragazzi una kill che vengo uccisa anch'io Ecco qua ragazzi, niente da fare Stanno accamperati Fermi Nelle loro posizioni Muori va Muori va Muori va Come se qui si può lasciare il tempo Axalvino Ecco qua Chi l'ha? Ha Non ho portato manco un tempo a dirlo Guardate questo Che succede qui? Bug allucinante ragazzi Bug allucinante Guardate questo Che bello Ok, ho partito la mano io Ecco qua, l'ho sbloccato Ho sbloccato ragazzi Nel frattempo sono morto Giusto per cambiare Però Vag allucinante Ecco qua Ci siamo subito vendicati Guastra peste Oh muori Fanculo Ucciso Ma l'ho buttato Non sono stordente No ma perché Sono morto Muori va In due L'abbiamo massacrato Anche se uccise nella sua Non so che cosa abbiano preso Però c'è qualche arma Che mi sta Che sta trucidando i miei compagni Quindi via subito Nooo Stavo guardando la mini mappa Muori va Muori malamente Muori Ecco qua Nulla da fare ragazzi Vediamo il mio punteggio Ah sono arrivato terzo Con dodici Diciassette Nella mia squadra Comunque ragazzi L'importante come sempre E' divertirsi Io ci diverto molto Spero che vi piaccia Quando vi porto questi episodi Se è così Condivate a lasciare like Se volete commentare Magari anche Dandomi dei consigli Per il problema di Nat Che sto avendo Datemeli pure Come risolvo Io ho pastweb Ok Lasciate like Condividete Se non l'avete fatto ragazzi Come sempre Iscrivetevi al canale Mi raccomando E iniziate a suggerirlo A tutti i vostri amici Quindi dal giorni 83 è tutto Ci vediamo nel prossimo video Bella Ciao